Adesso io mi girerò, mucca permettendo, pecora permettendo, mio dio, e vi mostrerò una delle cose più maledette di questo mondo di Minecraft maledetto Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft maledetto Siamo nel secondo episodio, siamo in questa serie hardcore, quindi una serie in cui non posso recuperare la vita, quello si Però in cui non posso assolutamente rinascere in caso di morte, il che è un bel problema E perché è un bel problema? Perché come potete vedere siamo in un inferno in terra, letteralmente E guardate cosa cacchio ho trovato, nella scorsa puntata ci siamo lasciati con la costruzione della casa che ho finito e poi vi farò vedere Ma stavo esplorando un pochino per procacciarmi un po' di cibo e ho trovato questa scena orribile Oh mio dio, è bruttissima, cioè guardate il pavimento, guardate il fottuto sentiero È tutto tipo sminchiato, sembra quasi radioattivo, però è veramente strafigo Ok, la lava qui è palesemente glitchata, in realtà non è lava ma vi ricordo è acqua Qui dentro... Dai, però un po' di armatura c'è e me la prendo sicuramente Che sicuramente il fatto di non poter recuperare vita mi limita un bel po' E avendo a disposizione tra l'altro mele, quindi future mele d'oro E quindi appunto avendo la possibilità di essere un po' armato io non la sdegno diciamo Un sacco di pane devo dire Beh, buono comunque sia perché l'obiettivo di questa mia esplorazione era proprio trovare del cibo principalmente E magari vedermi alcuni dei luoghi più maledetti di questo mondo Devo dire che ho trovato delle piante veramente strane E poi ve le farò vedere, una ce l'ho qui che è la spruce e l'altra ce l'ho qui che è la caccia Sono le uniche dei due che ho trovato per il momento Però hanno dei colori veramente sminchiati Fatemi prendere la campana nera Tra l'altro i villaggi adesso scapperanno in casa Però mi voglio prendermi troppo la campana nera Bellissima, veramente tamarra Tra l'altro vedete che il fuoco non mi brucia Non perché io abbia tipo resistenza al fuoco o sia diventato una blaze Ma perché in realtà quello è praticamente... Uh, questa qui però me la prendo Assolutamente, mi tornerà un sacco utile per i vari minerali Ma perché questa qui in realtà è una texture animata per l'erba alta due blocchi Per intenderci, no? Quindi probabilmente la andrò anche a piazzare tipo in giro per la base Perché è veramente figo il fatto di dire Ah, c'ho tutto quanto alla base che va a fuoco In realtà no Tra l'altro la musica qui, ah no? Ok, si sente Dovreste sentirla in teoria Perfetto Allora, breve esplorazione di questo villaggio Giusto perché come detto voglio recuperare un pochino di oggetti E vedere se c'è qualcosa di interessante Questa, ma onestamente posso anche lasciarla qui Alla fine dei conti non è effettivamente una serie survival Cioè sì, lo è, è una serie survival a tutti gli effetti Però qui l'obiettivo è quello di esplorare il mondo di Minecraft maledetto Quindi, allora Quello che faremo in questa puntata Come avrete sicuramente letto dal titolo Sarà andare in miniera Qui, ah, ce n'è un'altra Magari la prendo Oppure questa Effettivamente la fornace della fusione torna un sacco utile Appunto l'obiettivo di oggi sarà quello di andare Questi li prendo Accidenti Questi li prendo sì Non ho una ascia Però li prendo e come? Perché i libri tornano un sacco utili E appunto oggi ci procuriamo tutti quanti i minerali Nella prossima puntata invece Ci dedicheremo alla creazione di una buona armatura Ai primi enchanting E accederemo il portale del nether Perché poi ragazzi Non nella prossima puntata Ma in quella dopo Lasceremo l'overworld Praticamente per sempre E andremo nel nether E non vedo l'ora Ok, questo villaggio direi che l'abbiamo esplorato Direi che faccio anche fuori tutti quanti questi animali Così mi porta a casa un bel po' di cibo Ed eccoci qui finalmente Yes Il fatto di nuotare sotto la lava ragazzi Mi sconvolge ancora È veramente figo però l'effetto E la casetta è questa Allora adesso ve la faccio vedere Sono abbastanza soddisfatto del risultato Vedete che è praticamente A parte il ghast che sorge praticamente da lì dietro Vedete che è praticamente una sorta di tronco d'albero Molto abbozzato ovviamente Perché non sono stato a curare molto i dettagli propriamente Però poi ci ho messo qui una piccola farmettina di verrucche del nether Che ovviamente crescono sopra della bedrock Alimentate da una sorgere Rinfrescate quasi direi Da una sorgente di lava Quale posso sguazzare liberamente Io non ho rotto le robe qui meno male Comunque sia Cazzata parte Questo qui è l'interno della casa Con tanto di sauna Questa qui è una No non è una sauna È tipo come si chiama L'idromassaggio Il lava massaggio Lo chiameremo così Allora Facciamo una bella cosa Tipo per prima Cioè prima di tutto vado a posizionare tipo Questa qui Non è propriamente bellissima Però ce la facciamo andare bene La fornace della fusione Non so bene dove andare a metterla Però magari posso andare a sacrificare Quest'ultima fornace Eccoci qui E al loro post Cioè al suo post vado a mettere Le due fornaci della fusione Perfetto Allora Fatemi svuotare un po' L'inventare da tutto quanto questo schifo Che schifo non è Però insomma In questo momento non mi serve Mi prendo un po' di carbone E mi prendo tutto quanto il cibo Che ho collezionato nel corso del viaggio E mi prendo pure le piantine Che adesso vado subito a piantarle In modo che poi crescano Allora Prima di tutto Smeltiamo un attimino queste cose Quindi uno E facciamo due Perfetto Dopodiché Fatemi andare a piantare Queste piantine qua all'esterno Direi tipo qui sulla riva Così poi Le vediamo crescere Proprio qua davanti Saranno ancora di più Un pugno nell'occhio Ah è morta una squid qui Vabbè chi se ne frega C'è un cane tra l'altro E sarebbe figo prendersi il cane Allora aspettate un attimo Prima di tutto mettiamo Questa piantina qui Poi mettiamo Una caccia Forse è un po' troppo vicina Ok E poi vabbè L'hawk sapling in realtà Non serve a niente Perché l'hawk Ce l'abbiamo un po' ovunque Qui in giro Allora Vorrei mettere una campanella Tipo Tipo qui No cazzo Però non si vede che è nera No allora Voglio che si veda questa cosa qui Perché è veramente Molto bella Da vedere Con i bordini neri E allora Dov'è che la vado a mettere Eeeh Vabbè La mettiamo qui Non ha molto senso No anzi Sapete cosa Lo so che ci metto Mezz'ora a spaccarla Abbiate pazienza Eccoci qui La metto in questo punto Dai È un po' più sensata Che dite Eh Ok dai Basta suonare questa campanella Direi che è giunto il momento Di farci un bel piccone Di cobblestone Voi che dite Che in realtà è cobblestone Nera Nerissima Proprio Proprio oscura Allora Spruce wood Direi che Lo lascio qui per il momento Posso prendere magari un po' di birch Dai lavoriamo con la birch Che va benissimo La smeltiamo Teniamo del legno chiaro Campanella Allora scendiamo da questa parte Perché scendiamo da questa parte Ragazzi Perché Dovete sapere che qui sotto Io ho trovato una miniera Perché ovviamente Già un pochino mi sono preparato Tra l'altro lì c'è del ferro Ho Non poca paura devo dire Sarò sincero con voi Cioè Sono molto spaventato C'è anche uno zombie Cazzo E Ragazzi non si vede veramente niente Allora questa qui è lava Sicuro Ma proprio Sicuro come l'oro Allora fatemi fare una bella cosa Tipo Tappiamo momentaneamente questa lava In maniera tattica magari Perché non vorrei Togliere la fonte Perché può sempre tornarci utile Allora fatemi centrare un po' di più Le cose nell'inventario va Facciamo così Allora Sono alquanto spaventato Da questa situazione Ok Allora facciamo in questo modo Così la lava dovrebbe asciugarsi E vabbè insomma Andiamo Andiamo Senza troppa paura Allora Lì già vedo dell'oro Sperando che sia oro Questa è acqua Sì Questa è acqua Vero Ok Ok Oddio non si vede niente ragazzi Non si vede niente Perché voi ovviamente con youtube Che oscura tutti quanti i video Farete molta fatica a vedere bene No cazzo raga Lo sapevo Lo sapevo Porca Eva Porca Eva Scappiamo ragazzi Scappiamo Scappiamo Ok ragazzi È giunto il momento di andare Ad affrontare a testa alta Questo scheletro Quindi Andiamo Proprio Potentissimi Così E magari mangiamo anche Che potrebbe essere una buona idea Perfetto E adesso Dove sei scheletrino? Avanti Vieni qua Che poi tra l'altro Devo recuperare tutti quanti i minerali Che ci sono vicino a te Forse anche Despaunato Ma non ci conto così tanto Sembra che se ne sia andato Allora Facciamo una bella cosa Recupero un pochino questo ferro E continuo a tendere le orecchie Sperando che non salti fuori all'improvviso Sento un baby zombie Questo è un bel problema Aiuto 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 Ok ragazzi Allora È passato un botto di tempo Veramente uno sfacelo E ho esplorato praticamente tutto quanto il canyon E ho trovato un fottio di minerali Adesso vi faccio vedere tutto Ho l'armatura full ferro in questo momento E tra l'altro questa cosa qui che Tipo La lava Diventi Praticamente il portale del land Mi ha triggerato malissimo Durante tutta quanta l'esplorazione È veramente una roba molto fastidiosa Credetemi E ho incontrato veramente pochi mob Il che è abbastanza strano Però va bene così E tra l'altro Questa cosa qui di avere le grotte tutte quante scure Così Vi dirò la verità Non mi dispiace nemmeno Nel senso Mi sembra quasi di essere in una sorta di Tipo Un po' come se fosse Un Un coso vulcanico Una sorta di grotta vulcanica Se mi passate il termine Non so se Si può propriamente definire così Una grotta di un vulcano Beh si avrebbe senso Grotta vulcanica Effettivamente Ah si è vero Questa qui dovrebbe essere Dirt Eh eh Ah si è vero Questa qua è dirt Chiaramente Eh logicamente Ah tra l'altro qui posso mettermi a fare direttamente l'ossidiana Piazziamo un po' di lava Va va What the frick Cos'è questa roba Che merda Che merda ragazzi È bruttissimo Ok D'accordo Allora Aspettate un attimo Mi sono triggerato malissimo Allora Aspetta Allora Allora Recuperiamo i soliti pezzi A sufficienza anche per farmi una bella crafting table Eh si A sufficienza anche per farmi una bella enchancing table Che così poi me la porto su in casa Nel frattempo ragazzi Io vi dico che per questo video è tutto Mi raccomando Voi lasciate un bel like Qualora questo video vi sia piaciuto Io vi ringrazio tantissimo per la visione Mi raccomando Ci vediamo mercoledì prossimo Con un altro episodio di Minecraft maledetto In cui crafteremo l'armatura E ci prepareremo per andare nel nether Ci vediamo venerdì Con la serie moddata E con tanti altri video simpatici sul canale Mi raccomando Passate in descrizione Che troverete tutti quanti i social Soprattutto il canale Telegram In cui vi tengo aggiornati quotidianamente Su tante cose interessanti Stay care And I'll see you next time E con tanti altri video simpatici sul canale